Qual è il corso base in paghe e contributi? Qual è la retribuzione, le caratteristiche della retribuzione, la sua composizione, analizzando anche quelle che possono essere le criticità nella gestione di questa retribuzione, proseguendo poi per gli aspetti tecnici, perché la parte che seguo io è fondamentalmente tecnico-amministrativa, proseguendo per gli aspetti contributivi e fiscali che caratterizzano la retribuzione, quindi la gestione per esempio dei benefit, piuttosto che delle trasferte e quant'altro. Nella seconda giornata del corso, questo corso si compone di due giornate, io seguirò la parte relativa invece degli istituti, quali possono essere la malattia, la maternità e quindi comunque elementi che caratterizzano la gestione del rapporto di lavoro. Analizzeremo anche quella che è l'articolazione e le modalità dell'orario di lavoro e della sua gestione in azienda e se vi sarà il tempo faremo anche una piccola parentesi su quello che è il TFR, quindi sulla modalità di corrisponsione, quantificazione e quant'altro. Questo corso generalmente vede nella prima giornata e nella mattina la collaborazione di un collega che è il dottor Alberto Grattagliano, il quale invece segue gli aspetti che io approfondisco sotto un profilo tecnico operativo nella prima e seconda giornata e quindi gli aspetti più istituzionali, normativi, contrattuali della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Grazie.